Siamo Gaio, ho 20 anni, vengo da Orvieto, un piccolo paesino dell'Umbria. Sono fidanzata con Valerio da tre anni a questa parte. Io sono Valerio Braschi, vengo da Sant'Argancio di Romagna. Dopo la mia esperienza a Marziosi of Italia ho deciso di intraprendere la carriera di Cuoco. Sono in procinto insieme a Gaia e di aprire un ristorante a Roma. Ci siamo con un fute di Lisbona durante una vacanza scolastica. Io ero con la mia classe, con la mia scuola e lei era con la sua, che lei andava via e io andava a Savignano. Adesso noi lavoriamo insieme e cerchiamo di stare insieme il più possibile, anche comunque abitando a distanza, perché comunque abitiamo a tre ore di macchina. Io do una mano comunque sia anche sui social, spesso capita che magari scriviamo, non so, da scalia di foto insieme o comunque sia, ecco io faccio... Pubblica le cose per me quando non posso, oppure lei mi fa tutte le foto ai miei piatti. Ho anche foto di me, le fa sempre le tre, fa foto di me, le fa sempre le tre, fa foto di me insieme, quindi... Ho scoperto di essere celiaca a due anni e mezzo, più che altro l'hanno scoperto i miei genitori, perché bevevo moltissima acqua, tipo mi alzavo di notte e bevevo anche fino a due litri di acqua e io mi avevo già lì un po' un campanello d'allarme, poi perché non mi cresceva il piede. Mamma mi racconta sempre che erano tre mesi che portavo lo stesso numero di scarpe. Così ho fatto varie analisi, vari test e sono risultata celiaca. Il ricordo che ho è che i miei non mi hanno mai fatto pesare nulla, del tipo se non potevo mangiare una cosa magari facevano a meno di mangiarla anche loro piuttosto che vedermi a me triste. La celiaca di Gai è diventata per me quasi tipo una sfida per conoscere questo mondo, che è un mondo che sembra molto piccolo, però è un mondo vastissimo, perché comunque la farina è contenuta in un sacco di preparazioni, quindi sostituirla e cose è sempre una sfida, però alla fine è una sfida che facilmente si può vincere, perché alla fine si può fare tutto senza glutine. È un'opportunità per migliorare e per imparare a sfruttare nuove farine, nuovi ingredienti. L'idea del ristorante è un ristorante, diciamo, lo faremo a Roma e faremo la mia cucina, in senso una cucina molto ragionata e ovviamente ci sarà l'alternativa senza glutine, perché non è giusto che un ristorante che comunque punti a qualità alta non abbia alternative senza glutine. Il mio lavoro insieme a Valerio è da una parte specialmente divertente, perché noi quando entriamo in cucina, quello che c'è da dire è che non siamo fidanzati in quel momento. Noi siamo Valerio e Gaia, però cerchiamo sempre comunque sia di lavorare con il sorriso e con complicità. Grazie.